Allora ragazzi siamo in divisione online e niente faccio un po' vedere la mia squadra adesso io faccio vedere questo qui mi sa che l'ho già incontrato perchè c'è la foto di Maradona sul nickname e se è quello che dico io questo è forte faccio vedere un po' la mia squadra guardate la sua guardate la mia è questa per adesso poi vedremo boh andiamo in campo va come va chi se ne frega e questo c'è una buona squadra perchè Valverde ce l'ha anche lui andiamo a vedere come gioca sono curioso sicuramente perderò eh classico 4-2-1-3 lo usano in tanti no ho sbagliato scusate andiamo perdon perdono ho sbagliato a schiacciare eh con questo sarà tosta giocare questo gioca bene se quello che dico io è forte a meno che non usi qualcosa spero di no vediamo vediamo cerchiamo tranquilli cerchiamo di non cazzarci tanto non serve a niente volando volando palo incredibile e ogni tanto mi va di culo anche a me che l'ha ribatto e c'è il mio toccante che cazzo una volta ogni 10 partite adesso attenzione perché sicuramente si metterà a giocare eh adesso di fatti si mette a giocare vai quadrato ci prova con un pallone profondo c'è spazio da sfruttare in verticale mamma mia basciamo leggermente perché la data lì è sbaglio è sbaglio e sbaglio ma va dai calma calma tanto e non è finita non è finita attenzione attenzione voglio ragazzi ecco è costretto a ricominciare giardialba vede lo scatto e cerca la profondità cercano un'azione di stare in difficoltà partendo dalle corsie laterali e può essere una buona idea in effetti devono solo evitare di lasciare il centro del campo troppo scoperto Wagner quadrato anticipa la traiettoria del pallone scampato pericolo sceglie il pallone morbido opportunità di ripartire supera il diretto avversario e niente da fare ecco un'occasione di contropiede occasione per il contropiede tentativo di allungare il gioco ben fatto intervenuto quando c'era bisogno di lui Holland e ci arriva sempre prima il difensore porco dio ma fallo bello mio mica sempre domenica calma calma il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio no l'ho sbagliato io a schiacciare ci prova non si passa ottima parada il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui intervento pregevole vuole sfruttare lo scappo ma guarda che cazzo con che debolezza che danno sti passaggi mamma mia che debo coglioni vabbè comunque valverde è messo così i passaggi sono precisi nessuno ha paura di tentare l'azione personale vediamo eh no non basta allora valverde andiamo a toglierlo vediamo chi possiamo mettere di qua vediamo a vedeli però abbassiamo anzi facciamo una cosa scusate benzeva messo qui non è che mi piace molto paolino paolino eccolo qua paolino di bala paolino speriamo di vincere ma vediamo e niente non ci va gli dai il comando e stanno fermi lì aspettare che arrivi prima il difensore la profonda nello spazio lì va al momento giusto vediamo se fa il tiro splendida ragazza del portiere esempio perfetto di marcatura gli hanno impedito di andarsene via palla al piede e questo è un passaggio quanto meno discutibile pallone interessante in verticale non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità l'idea del passaggio era giusta gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico Wagner sceglie di andare per via verticali cross in arrivo in cornata e c'è la rete ora doppio vantaggio per loro grande colpo di testa rapido preciso ha colpito bene con perfetta coordinazione ballo 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 un gol determinante con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita pedri sono rientrati dagli spogliatori con autorità dopo la rete che ora hanno il potere di impostare questa seconda parte con i loro ritmi hollando verico in aria un intervento impeccabile un contrasto di cui avevano bisogno ne sono usciti indegni un intervento che ha evitato una catastrofe però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili spinazzola riparata sembrava che stesse per concordizzare un'azione iniziata bene dovranno riprovarci guarda si impone nell'uno contro uno riprende il possesso holland occhio al tiro che parata cerca non un intervento di routine sembrava aver sorpreso il portiere ma lui ha risposto con un intervento forza vediamo quadrato quadrato è un po' ci fa qui guarda la difesa spezza questa azione personale molto pericolosa non è troppo lontano cerca tiro pallone fuori davvero di pochissimo gran peccato ha forzato il tiro sicuramente potrebbe restituzione in progress restituisce mount che pallone gli ha dato prova no dice di no altra occasione arriva cross di quadrato questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti non sta concedendo palle giocabili praticamente pedri poteva essere un'azione importante difesa però ben posizionata calcio di punizione per immagoli arraugio di api allontana prova a scavaccare avversi lancia di testa ha spiegato per la verità una grande opportunità impegno per tornare in partita non manca ma finora non ce l'hanno fatta pallone interessanti in verticale ha letto bene l'azione ottimo intervento bastava un tocco leggermente più accurato l'idea però non era niente male l'intenzione era molto buona l'esecuzione un po' meno va la ricerca di un compagno davanti pedri ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare sarebbe la prima volta che ne vinco due di fila in una divisione vede lo scatto e cerca la profondità prova a darla profonda nello spazio quadrato quadrato eh vaffanculo decisamente fuori bersaglio la sua conclusione io li metto i football ogni tanto giusto per far vedere un po' come il gioco va bene va bene grazie è tutto io ho fatto vedere è raggiunto la promozione vabbè ma queste 5.000 gp molto bene molto bene due partite ho già raggiunto poi vabbè cambia non sono sempre così punti da fare devo capire come collegare sto id per prendermi sti punti di football vedremo se riuscirò a farlo ma boh ciao a tutti buonanotte